Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Ciao ragazzi, un saluto da gladiatore giallorosso. Allora, a parte questa grande cazzata, benvenuti in questo nuovo video pomeridiano. Ho fatto questa intro un po' del cavolo perché, giustamente, come avrete detto dal titolo, voglio rispondere a Luca Mastrangelo. Non fraintendete, non è un video per attaccarlo e per aprire un chissà quale dissing per farci visualizzazioni. Quindi lo metto nel titolo perché voglio che il video arrivi a lui e che ascolti, appunto, le mie parole. Perché? Cosa è successo? Mastrangelo ha fatto di recente un video dopo Real Madrid-Roma per parlare un po' della reazione che i tifosi della Roma, youtuber, non so se hai visto anche la mia, hanno avuto dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Dicendo, tra le altre cose, che non si aspettava una reazione così rabbiosa dopo una sconfitta contro una squadra importante come il Real Madrid. E io, appunto, voglio fare questo video per parlarci un po', se così possiamo dire, e dirgli perché, secondo me, la Roma ha reagito così male a questa sconfitta. Allora, premettiamo prima di tutto che la situazione attuale dell'ambiente giallorosso è rovente. È rovente e, di conseguenza, ogni minima sconfitta, ogni minimo passo falso, ogni minimo passaggio sbagliato viene visto con una rabbia raddoppiata. Perché c'erano molte aspettative su questa squadra, perché dopo la semifinale dello scorso anno tutti quanti ci aspettavamo una stagione, non dico ai livelli della Juve, ma comunque almeno sullo stesso livello di quella precedente, e i tanti risultati negativi, il gioco che stenta a decollare e le scelte sbagliate del mister, dell'allenatore e gli errori personali dei giocatori, influiscono particolarmente. Poi si sa che Roma comunque è una piazza un po' più accesa, e non dico più brutta rispetto ad altre più importanti. È una piazza accesa e quando le cose vanno bene, la squadra viene considerata la più forte del mondo. Quando le cose vanno male, parlo ovviamente a livello generale, sono tutti scarsi e sono tutti pipponi. Di conseguenza, per me era, non dico normale, però comunque mi aspettavo una reazione così negativa dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Questo soprattutto è dovuto a due fattori importanti. Il primo è il fatto che il Real quest'anno sia tra le big dei campionati europei quella messa peggio. Con questo non voglio dire che è una squadra scarsa, perché è sempre il Real Madrid dei vari Modric, Kroos, Benzema, Bale, eccetera. Il fatto però è questo. I tifosi si sono arrabbiati perché dopo il primo tempo giocato di quella partita, l'impressione è che si siano buttati tre punti, dovuti soprattutto agli errori clamorosi di Hunder e di Fazio nel secondo tempo. E io sono sicuro che se il Real avesse dominato, probabilmente la reazione sarebbe stata meno rabbiosa. Perché in questo modo tu hai visto che la squadra poteva effettivamente farcela, ma si è spenta, si è rovinata in un bicchiere d'acqua, si è rovinata con poco. E questo è quello che fa arrabbiare ai tifosi. Il fatto che la squadra manchi di carattere, dai dirigenti fino ai giocatori. Che basta un non nulla, basta un piccolo errore e tutti i giocatori, non un giocatore solo, tutti i giocatori si sfaldano. E questa è la cosa principale che fa arrabbiare i tifosi. Non tanto anche i risultati, perché comunque la Roma non si è mai abituata a fare tante vittorie consecutive. Quindi perdere queste partite ci può stare. Il fatto però è che è una partita fotocopia di tutte le altre sconfitte che abbiamo fatti in questa stagione. Perché ogni volta che abbiamo perso, ogni volta che abbiamo preso un gol, non siamo mai riusciti a rimontare. Sarà successo una volta contro l'Atalanta. Ma per il resto, quando prendiamo gol, perdiamo quasi sempre. Ed è questo quello che dà più fastidio al tifoso della Roma. Una squadra che l'anno scorso ha tirato fuori le palle di rimontare tre gol al Barcellona, non riesce a rimontare neanche una Spal, neanche un Udinese, neanche la squadra più mediocre tecnicamente, nonostante un valore tecnico superiore rispetto ai propri avversari. Questo è il primo fattore che, secondo me, ha portato a questa rabbia. Poi comunque tu nel discorso hai detto che mi aspettavo una reazione del genere dopo Udinese Roma. Però la reazione rabbiosa c'è stata dopo Udinese Roma. Io stesso ho dovuto mettere privato il mio video perché ero troppo volgare e mi sono vergognato di me stesso dopo averlo rivisto. Quindi potete immaginare com'è stata la reazione dei tifosi dopo quella sconfitta. Secondo me, e lo dico proprio sinceramente, il tifoso della Roma si è arrabbiato molto perché fino ad ora l'unico appiglio, diciamo, che c'era per salvare questa stagione era la Champions League. Per carità, siamo passati e quello comunque è importante. Però noi, l'unica cosa veramente positiva di quest'anno è il fatto che in casa, in Champions League, abbiamo sempre vinto. Comunque non perdevamo da due o tre anni, dall'ottavo di finale della stagione 2015-2016. E aver perso in questo modo e soprattutto aver perso completamente ogni certezza dopo un solo gol subito è qualcosa che ti deprime perché tu non sai mai come gestire questa squadra. Tu devi sperare che la Roma sia in vantaggio per almeno due gol minimo per poter essere leggermente tranquillo. E neanche perché Colchievo era in vantaggio 2-0 e ha preso due gol. Colchievo è per dire. E' questo il fatto. Cioè è una squadra che non dà certezze, una squadra che sembra allo sbaraglio più totale, una squadra che non sta rispettando per nulla le aspettative che tutti i tifosi avevano. E io lo dico soprattutto perché adesso qualcuno mi verrà a dire eh ma voi pensate sempre di vincere lo Scudetto, pensate sempre di essere la più forte. Io vi dico la verità, io non penso, se dovessi parlare con 500 tifosi della Roma, non penso di trovarne uno che sperava nello Scudetto all'inizio di questa stagione. Non è questo il punto. Secondo me la Roma come Rosa può ambire tranquillamente ad un terzo posto perché non la vedo così inferiore rispetto all'Inter in questo momento e né tanto meno rispetto alla Lazio e al Milan. Quindi per me la Roma terza ci può arrivare tranquillamente. Tu vedi una Roma che può arrivare terza a livello tecnico, la vedi settima dietro il Parma con tutto il dovuto rispetto, anzi saluto anche Papiros perché comunque lui ti fa Parma e penso che tutti quanti lo saprete. E' una cosa che mi fa un po' vergognare. Di conseguenza, quando tu vedi che sia in campionato che in Coppa la squadra non ha carattere e non ha grinta, ti deprimi ulteriormente. Quindi non è stato tanto l'aver perso con Real Madrid, che ci può stare, ma uno, come ci hai perso, e due, in quale momento è arrivata la sconfitta. Perché se questa sconfitta fosse arrivata in un momento in cui la Roma era terza in campionato e comunque a posto in Champions League, probabilmente non ci sarebbe stata questa rabbia. Il problema è stato un po' come una goccia che ha fatto traboccare il vaso, come il fatto di aver visto le uniche cose positive di questa stagione sfaldate, perché per carità siamo andati a aiutare, però la prestazione è stata veramente mediocre, soprattutto nel secondo tempo, ha fatto arrabbiare molto il tifoso della Roma. Quindi non era una rabbia dovuta solo a quella partita, ma un po' a come è arrivato il risultato e in generale dopo quale fila di risultati negativi è arrivato. Di conseguenza io capisco la rabbia dei tifosi, ma voglio chiedere questa cosa a Luca, non è dovuta solo a quella partita, ma in generale a tutto il momento di merda, scusate ma una volta lo dovevo dire, che sta vivendo la squadra giallorossa. Spero che lui e tutti i suoi iscritti, comunque tutti quelli che hanno visto il suo video, abbiano capito, almeno a parer mio, il perché di questa rabbia così rovente da parte dei tifosi giallorossi. Saluto ancora una volta Luca, perché ogni tanto mi piace parlare con lui anche del più e del meno riguardo ovviamente il calcio. Fatemi sapere nei commenti invece voi cosa ne pensate. Ci vediamo presto per un altro video. Un saluto e sempre e comunque forza Roma. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.